Abbiamo avuto modo di incontrare qui nella nostra sede l'ex sindaco di Cassano a Loioni o Gianni Papasso per una intervista esclusiva fatta dal nostro Pietro Comito che abbiamo mandato nella puntata di ieri sera a Pubblica Piazza. L'intervista è stata per certi aspetti drammatica, abbiamo visto un sindaco ma soprattutto un uomo fortemente provato da questo provodimento di scioglimento, un uomo che dice sto soffrendo, sta soffrendo la mia famiglia, addirittura non abbiamo fatto l'albero di Natale perché siamo in lutto. Ora insomma questa è una terra, la Calabria sempre a double face, però noi abbiamo motivo di credere, guardando negli occhi questo uomo che fino a qualche giorno fa ricopriva la carica di primo cittadino di Cassano, era cioè il rappresentante dello Stato in una terra che non si può dire non di mafia, dove sono avvenuti fatti orribili come l'uccisione del piccolo Cocò, dove ci sono delle cosche mafiose agguerrite per certi aspetti selvaggi e però noi guardando negli occhi non tanto il sindaco, l'ex sindaco, ma l'uomo ci sentiamo di dire che ci troviamo di fronte a una persona per bene che sta subendo un atto che lui ritiene ingiusto e questa ingiustizia la si tocca nel fisico di quest'uomo. Sullo scioglimento come abbiamo già detto dei comuni, sui metodi, sulla tecnica di acquisire informazioni e poi sulla bonifica abbiamo seri dubbi e perplessità, li abbiamo sempre manifestati e in questo momento addirittura si è aperto anche un grosso dibattito. Io credo che leggendo le motivazioni che sono state depositate, che sono secretate, che non abbiamo avuto modo di leggere su Cassano, le nostre perplessità per la verità aumentano, perché non ci sono a nostro avviso atti che giustificano la mortificazione e lo sgombero dei rappresentanti eletti dal popolo. Può darsi che ci sbagliamo, però abbiamo letto le carte, c'è una grossa differenza tra il malloppo e il rapporto fatto per la città di Lamezia di circa 240 pagine e le 80 pagine di Cassano sullo Ionio e c'è anche una netta differenza anche con la ricostruzione della rete che dimostra l'eventuale o la presunta infiltrazione. Insomma, al Sindaco addirittura contestano null'altro che la partecipazione al funerale di una signora, che in questa intervista ci ha spiegato anche chi era, parente di uno dranghetista. Riteniamo che se le motivazioni sono queste e sono queste dalla relazione che è stata presentata, io credo e noi crediamo che a lungo andare e se prosegue così e se non c'è un'inversione di rotta e se non c'è un riscontro chiaro e preciso su come vengono costruite queste relazioni, il rischio che questo strumento che era nato per fare pulizia negli enti locali e nelle istituzioni si trasformi in una farsa è molto alto. Quindi lo Stato e i rappresentanti dello Stato, nonché la politica, deve fare una serie di riflessioni. Grazie a tutti!